ciao a tutti mi chiamo franco bavila e oggi vorrei parlarvi della nuova pubblicazione che abbiamo realizzato come sinistra classe rivoluzione si tratta di questo libro che si intitola Lenin e Trotsky per cosa lottarono veramente un libro scritto da Ted Grant e Alan Woods che sono due importanti teorici marxisti Ted Grant è stato dopo la morte di Trotsky il principale teorico marxista che ha svolto un ruolo decisivo nell'interpretare una serie di avvenimenti a partire dal secondo dopoguerra fino alla fine degli anni 90 e Alan Woods è invece ancora oggi il principale dirigente della tendenza marxista internazionale Alan Woods e Ted Grant scrivono questo libro nel 1969 quando l'unione sovietica è all'apice della sua potenza e sembra veramente una potenza incrollabile una potenza indistruttibile ma in realtà all'interno del blocco stalinista all'interno del blocco del cosiddetto socialismo reale cominciano aprirsi delle crepe cominciano ad aprirsi delle contraddizioni c'è una grossa spaccatura tra l'unione sovietica da una parte e la Cina dall'altra e ci sono delle turbulenze anche all'interno dello stesso movimento anche all'interno degli stessi partiti comunisti in Europa orientale per esempio è famoso l'episodio del 1968 della primavera di Praga questi avvenimenti creano un certo dibattito in tutti i partiti comunisti a livello mondiale e in particolar modo nelle sezioni giovanili di questi partiti comunisti e in qualche modo i dirigenti devono correre ai ripari perché tra questi giovani militanti che cominciano a porsi delle domande a cercare di capire che cos'è che non va che cos'è che non funziona inizia si inizia a parlare si inizia a discutere di Trotsky Trotsky era stato assieme a Lenin il principale dirigente della rivoluzione d'ottobre era stato il leader dell'armata rossa che aveva condotto vittoriosamente la guerra civile dopo la rivoluzione d'ottobre era stato uno dei principali leader dell'internazionale comunista ma col passare del tempo la direzione stalinista che si era impadronita del partito bolshevico in Russia e che si era impadronita anche dell'internazionale aveva un po' alla volta ma in maniera sistematica messo Trotsky i margini e non solo aveva messo i margini ma aveva poi iniziato a perseguitare lui perseguitare i suoi seguaci conducendo una serie di crimini veramente disgustosi e per questo motivo Trotsky era finito completamente ai margini del movimento comunista ma alla fine degli anni 60 sulla base degli avvenimenti che vi ricordo prima e nella ricerca delle risposte ai problemi che emergevano inizia a circolare nuovamente il nome di Trotsky inizia a circolare nuovamente le idee di Trotsky che era il dirigente che più coerentemente aveva sviluppato un'opposizione contro Stalin e contro la burocrazia che aveva preso il potere all'interno dell'Unione Sovietica e per correre ai pari per impedire che questo interesse per Trotsky potesse diventare pericoloso e minare la stabilità dei gruppi dirigenti di diversi partiti comunisti i dirigenti stalinisti corrono ai ripari e per esempio in Gran Bretagna si affidano a questo Monty Johnston che era il principale teorico del partito comunista della Gran Bretagna. Monty Johnston scrive un articolo lungo contro Trotsky ma lo fa diciamo in un modo astuto in un modo furbo se negli anni 30 gli stalinisti avevano utilizzato contro Trotsky le calunnie più vergognose. Trotsky veniva presentato come un agente della controrivoluzione in Unione Sovietica, veniva presentato come un alleato dei nazisti che si era messo d'accordo con i nazisti per rovesciare il governo dell'Unione Sovietica e tornare al potere sull'onda delle armi naziste, questo era come veniva presentato negli anni 30, veniva come un terrorista che voleva uccidere tutti i principali dirigenti stalinisti dell'epoca, questo era il modo in cui veniva presentato. Monty Johnston è un po' più furbo e non cerca di portare avanti queste vecchie calunnie che anche già alla fine degli anni 60 era chiaro a tutti che erano completamente inventate, che erano delle montature assolute, ma va a scavare nella storia del partito bolscevico, va a scavare negli scritti di Trotsky, va a scavare negli scritti di Lenin e cerca di fare un'esposizione dove contesta non con le calunnie degli anni trenta ma sulla base di una serie di argomenti politici contesta le principali posizioni di Trotsky. Alan Woods e Ted Grein dice bene accettiamo la sfida e scrivono questo libro in polemica con l'articolo di Monty Johnston e questa peraltro fa parte della tradizione del movimento rivoluzionario, tutti i principali, tutti i più grandi rivoluzionari nelle loro epoche hanno scritto le loro opere non così nel tentativo di elaborare il mondo che gli piaceva ma hanno elaborato una serie di polemiche contro quelli che erano i principali argomenti dei loro avversari. Ted Grein e Alan Woods fanno esattamente lo stesso e scrivono questo libro. Naturalmente per rispondere alle critiche nei confronti di Trotsky e di Monty Johnston sono costretti a ripercorrere un po' tutta la storia del partito bolshevico, della rivoluzione d'ottobre, di quelle che sono le idee principali di Lenin, di quelle che erano le principali posizioni di Trotsky e dunque da un libro che parte come un libro di polemica in realtà vengono sviluppati una serie di argomenti assolutamente decisivi. Si parla della questione della rivoluzione permanente, della teoria di Trotsky, della rivoluzione permanente, si parla della questione del socialismo in un paese solo, si parla di quelli che furono i principali dibattiti all'interno del movimento rivoluzionario russo, in particolar modo su quale sarebbe stato il carattere della rivoluzione e su come i rivoluzionari dovevano prepararsi a questa rivoluzione. Ma entra anche in quella che fu la storia dei primi anni del regime bolshevico, quando in Russia c'era ancora uno stato operaio sano, non c'era ancora quel mostro burocratico che ci sarebbe stato sotto lo stalinismo e si discute dei dibattiti all'interno dell'internazionale comunista, all'interno del partito bolshevico, sulla pace di Brest-Litovsk, su quale politica tenere nei confronti dei sindacati e parla anche di quella che fu la lotta che sia Lenin e sia Trotsky portarono avanti contro la burocratizzazione dello stato sovietico che aveva il suo principale esponente in Stalin. E quindi sviluppando questa polemica con Monty Johnson lentamente viene fuori quella che era la vera politica portata avanti da Lenin e Trotsky, non solo nel campo delle idee ma anche nel campo dell'azione concreta rivoluzionaria una volta che i lavoratori prendono il potere in Russia nell'ottobre del 1917. E quindi è un libro estremamente importante per capire quelle che sono le idee autentiche del marxismo, non quelle che sono state snaturate per decenni dallo stalinismo, dai suoi esponenti, dai suoi teorici come Monty Johnson, ma si cerca di tornare all'originale, quale fu veramente la battaglia politica di Lenin e Trotsky, una battaglia alla quale anche noi oggi come sinistra classe rivoluzione, come tendenza marxista internazionale, ci ispiriamo. E se vogliamo appunto capire quali sono le nostre idee, qual è la nostra idea di socialismo, che non è quella dei gulag di Stalin, ma è quella di un regime basato sull'economia pianificata, sull'economia nazionalizzata e soprattutto sulla democrazia dei lavoratori, esercitata attraverso i consigli dei lavoratori che devono essere quelli a esercitare il potere economico e politico. Questo libro, chi vuole capire quelle che sono queste idee, questo tipo di idea del socialismo, questo libro è assolutamente decisivo, è assolutamente fondamentale, perché Ted Grant e Alan Woods, nelle varie pagine, proprio affrontano tutti questi argomenti. E quindi questo è un po' un manifesto politico del nostro movimento a livello internazionale, di quali sono le basi teoriche dalle quali partiamo per cercare di arrivare preparati a quelli che saranno i prossimi avvenimenti e siamo convinti anche i prossimi avvenimenti rivoluzionari che abbiamo di fronte a noi. E in questa edizione del libro che abbiamo voluto realizzare l'abbiamo voluta arricchire. Non c'è solo il testo originario che hanno scritto Alan Woods e Ted Grant, ma abbiamo voluto aggiungere una serie di scritti che potevano essere utili per capire ancora meglio quello che è l'oggetto, quello che è il contenuto di questo testo. Per esempio abbiamo messo anche l'articolo originario di Monty Johnson, traducendolo anche quello dall'inglese, c'è l'articolo originario col quale polemizzano. E questo non capita spesso, che leggendo un libro di polemica con le idee di altri, anche le idee degli altri vengono pubblicate e vengano esposte, perché non c'è nulla da nascondere, non c'è un tentativo di confondere le posizioni con gli altri. Anzi, il metodo di Alan Woods e Ted Grant era proprio quello di prendere non le posizioni più grezze, più stupide, più grottesche, appunto, come quella di dire che Trotsky era un nazista, perché polemizzare con quello sarebbe fin troppo facile. Ma loro invece prendono la migliore elaborazione che lo stalinismo è stato in grado di mettere in campo in quegli anni e rispondono a quella. E' dimostrazione che non hanno nulla da nascondere, noi mettiamo in questo libro quella che era l'articolo originario di Monty Johnson. E peraltro si può vedere quella che è la differenza tra i due approcci. Da una parte noi vediamo Monty Johnson che prende una serie di citazioni estrapolate dal loro contesto per cercare di creare un determinato effetto sviando il lettore con una serie di citazioni fatte ad hoc. E invece Alan Woods e Ted Grant che non si attaccano alla singola parola, alla singola frase, ma citano i testi nella loro versione integrale e soprattutto cercano di afferrare quella che è la battaglia complessiva che questi due grandi rivoluzionari hanno portato avanti. E quindi è utile non solo per andare a vedere le idee che nel libro vengono combattute, questo scritto di Monty Johnson, ma anche per vedere il vero metodo marxista qual è, che non è appunto quello di fare le citazioni fuori dal contesto, di estrapolarle per ottenere un certo effetto, ma è quello di andare a vedere quali furono effettivamente le battaglie, quelli che furono i processi reali in corso e come questi grandi rivoluzionali si inserirono all'interno di questi processi reali. Quindi è molto educativo anche da questo punto di vista. Ma abbiamo voluto aggiungere altre cose all'interno del libro, per esempio abbiamo messo una introduzione di Rob Sewell che è stata scritta nel 2000, era la quarta edizione inglese del libro, Rob Sewell ha scritto questa nuova introduzione nel 2000 e nel frattempo dal 1969 era crollato il muro di Berlino e in tanti dei principali dirigenti stalinisti e anche dei loro teorici avevano cambiato la loro posizione. E però qua si va a fare i conti con questo. Rob Sewell per esempio spiega di come lo stesso Monty Johnson avesse detto alla luce di quello che è successo non sarei più così categorico nel scrivere quello che ho scritto alla fine degli anni 60. Per esempio Monty Johnson escludeva che potesse esserci in Unione Sovietica un processo di restaurazione del capitalismo e criticava Trotsky perché aveva previsto che a un certo momento la burocrazia stalinista avrebbe anche potuto restaurare il capitalismo all'interno dell'Unione Sovietica che è esattamente quello che è accaduto ed esattamente quello che Monty Johnson aveva contestato nel suo scritto e quindi lui a diciamo più di 30 anni di distanza è costretto a rimangiarsi quello che era scritto a modificare la sua analisi mentre invece Alan Wunz e Ted Grant la loro analisi a 30 anni di distanza la potremmo dire oggi nel 2020 a 50 anni di distanza rimane assolutamente valida. E peraltro non è diciamo l'unico aspetto che viene trattato in questa introduzione. Rob Sewell per esempio spiega e espone quello che fu il percorso politico di tanti dirigenti stalinisti che fino agli anni Ottanta erano stati i grandi custodi dell'ortodossia, dell'obbedienza a Mosca, che a Mosca i dirigenti non sbagliavano mai, facevano tutto giusto e chiunque nei loro partiti provava ad alzare la mano e a dire che c'era qualcosa che non andava veniva cacciato via, quei stessi dirigenti dopo il crollo del muro passano armi e bagagli nel campo del capitalismo, diventano dei riformisti, qualcuno diventa pure liberale, qualcuno diventa socialdemocratico ma tutti in blocco rinnegano il loro passato, rinnegano la difesa a critica che avevano fatto dello stalinismo e passano di fatto dall'altra parte della barricata, dalla parte del capitalismo. Mentre invece chi si era opposto, chi aveva criticato le distorsioni che esistevano nell'Unione Sovietica come Alan Wulz e Ted Grant invece hanno proseguito coerentemente la loro battaglia e per quanto riguarda Alan Wulz la prosegue ancora oggi. Una delle parti più interessanti che abbiamo voluto aggiungere al libro, una delle appendici che abbiamo voluto aggiungere al libro per completare il più possibile il quadro che ne emergeva, è una raccolta di tutte le ultime lettere scritte da Lenin. Anche queste con una breve introduzione di Alan Wulz che presenta queste ultime lettere di Lenin. E devo dire che queste ultime lettere di Lenin messe tutte assieme rappresentano un documento storico davvero della massima importanza. Naturalmente la storiografia ufficiale dei partiti stalinisti e dell'Unione Sovietica ha sempre glissato su queste ultime lettere, le ha tenute nascoste per tantissimo tempo, le ha occultate perché non dovevano emergere, ma con l'apertura degli archivi queste lettere sono venute fuori e noi le rimettiamo qua tutte assieme perché hanno una grande importanza. Perché queste lettere dimostrano come Lenin nell'ultima parte della sua vita, sebbene fosse gravemente ammalato, sebbene gli costasse moltissima fatica a scrivere, infatti se noi guardiamo le date di queste lettere vediamo che ogni giorno riusciva a scrivere poche righe ed era costretto magari a interrompere tra un giorno e l'altro, far passare parecchio tempo in mezzo perché le sue condizioni di salute non gli permettevano di lavorare in maniera più rapida, ma nonostante questa sua difficoltà estrema, Lenin con grande lucidità si rendeva conto di quello che stava accadendo in Unione Sovietica, si rendeva conto che era in corso un processo di degenerazione burocratica, che c'era una burocrazia che si stava affermando all'interno del partito, all'interno dello Stato Sovietico e che Stalin era il capofila di questo apparato burocratico. E Stalin e Lenin in queste lettere inizia a lavorare faticosamente, dolorosamente inizia però a lavorare per cercare di creare un blocco, un blocco assieme a Trotsky per contrastare l'ascesa della burocrazia e per contrastare lo stesso Stalin. E quindi sono veramente una testimonianza importante, basterebbe leggersi queste lettere per fare andare completamente in fumo tutte quelle ricostruzioni che dicono che alla fine lo stalinismo è la stessa roba del leninismo, non c'è nessuna differenza. Stalin è il grande erede di Lenin. Questa è una tesi che abbiamo potuto ripetere allo sfinimento, è una tesi che ha fatto comodo agli stalinisti perché potevano avvantaggiarsi dell'autorità di Lenin e della rivoluzione d'ottobre, ma ha fatto molto comodo anche alla borghesia, alla destra, a tutti quelli che vogliono screditare l'idea della rivoluzione e che dicevano che alla fine appunto le idee rivoluzionari, le idee di Lenin, quello che era successo con la rivoluzione d'ottobre, inevitabilmente doveva andare a finire con lo stalinismo che quello era il destino ineluttabile e che quindi non bisogna fare la rivoluzione perché altrimenti si va a finire con i gulag di Stalin. Questa è la ricostruzione, ma basterebbe leggere queste lettere di Lenin dove appunto cerca di organizzare questa frazione, questo blocco politico assieme a Trotsky per contrastare Stalin e la burocrazia per capire che tra lo stalinismo e il leninismo sono due mondi completamente differenti e che sono anzi l'uno l'opposto dell'altro in molti casi. E peraltro Lenin purtroppo questa battaglia la dovrà interrompere, ma sarà Trotsky a continuare questa battaglia contro lo stalinismo e la porterà avanti fino alla fine della sua vita, fino al 1940, quando verrà assassinato da un sicario stalinista. Ed è una battaglia estremamente importante che appunto che ci fa capire che il vero comunismo non era quello che esisteva sotto Stalin, ma era un tipo di politica completamente differente che si basava sul potere non di una burocrazia statale, ma sul potere dei lavoratori. E questo è estremamente decisivo da capire se vogliamo dare una prospettiva seria alle idee rivoluzionarie, alle idee marxiste anche nella nostra epoca storica. E devo dire che leggendo queste ultime lettere di Lenin viene da dire che se anche solo fosse vissuto magari sei mesi in più, se anche fosse stato leggermente più in buona salute, magari il processo di degenerazione politica in Unione Sovietica ci sarebbe stato ugualmente. Ma sicuramente quella battaglia prolungata per qualche mese avrebbe aiutato molto a chiarire quali erano i veri termini della questione, quali erano le posizioni di Lenin e quali erano invece le posizioni di Stalin, impedendo quella confusione che invece è stata fatta artificialmente negli anni successivi. E dunque se ne prendiamo il libro originario di Alan Woods e di Ted Grant, il testo originario di Monty Johnson, l'introduzione del 2000 di Rob Sewell, queste ultime lettere di Lenin con, assieme all'introduzione che ne ha fatto Alan Woods, vediamo un libro che è veramente qualcosa di importante, qualcosa di molto ricco e che è uno strumento assolutamente decisivo per la formazione politica di chiunque oggi voglia porsi in un cammino che metta in discussione quello che è il capitalismo e quelle che sono le sue storture, quelle che sono le sue brutture al giorno d'oggi. È una lettura imprescindibile della quale siamo orgogliosi di essere arrivati a fare questa pubblicazione come Sinistra classe rivoluzione, avremmo voluto in realtà farla anche prima, però è importante che ci siamo arrivati fino ad oggi e vorrei fare un ringraziamento in particolare ai compagni della sezione di Sinistra classe rivoluzione di Roma che sono quelli che hanno più spinto per vedere realizzato questo libro e non solo hanno spinto e hanno chiesto di vederlo pubblicato, ma hanno anche fatto una parte molto importante del lavoro iniziando, facendo la prima traduzione di tutti i capitoli del libro originario e facendo questa traduzione dall'inglese e questo ci ha consentito sulla base di questo primo materiale di fare poi il resto del lavoro, di andare avanti e di arrivare oggi ad avere questo libro in mano. E questo ringraziamento che faccio ai compagni di Roma è sentito anche perché dimostra come all'interno della nostra organizzazione, all'interno del nostro movimento, la formazione teorica non è qualcosa che viene imposta dall'alto, che arriva il responsabile di formazione con la barba lunga, con i baffi a manù che impone qualche lezione grigia con i compagni che scappano. No, ma è una richiesta che viene da tutti i compagni di questa organizzazione che vogliono saperne di più, che vogliono approfondire una serie di argomenti, che chiedono di avere il materiale di cui c'è bisogno per fare questo. Questo dimostra, sopra ogni altra cosa, come questa organizzazione, come questo movimento Sinistra Classe Rivoluzione sia una formazione politica sana, genuina, che ha all'interno le forze che servono per condurre le battaglie politiche di cui c'è bisogno in questa fase. Quindi faccio questo ringraziamento ai compagni di Roma, ma faccio soprattutto un appello a tutti quanti a comprare, ad acquistare questo libro, naturalmente lo abbiamo realizzato noi, tutto il ricavato va in autofinanziamento per continuare nella nostra battaglia. Il costo del libro, lo dico, è di 15 Euro, per quello che c'è dentro è un prezzo assolutamente regalato, ma soprattutto non è un prezzo per arricchire una casa editrice, ma è un prezzo di un'organizzazione politica che fa autofinanziamento e che porta avanti una lotta politica. E da questo punto di vista, quindi, il libro è utile non solo per far casa, ma perché è uno strumento politico decisivo, che serve per far capire quali sono le nostre idee, qual è lo spirito nel quale muoviamo la nostra militanza politica quotidiana, qual è l'orizzonte verso il quale vogliamo andare e del quale non ci dobbiamo mai assolutamente dimenticare. Quindi vi invito a comprarlo, vi invito a leggerlo e vi invito a seguire tutte le nostre iniziative come Sinistra Classe Rivoluzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.